Ciao a tutti, siamo Alexma di Cagliari e in questo momento sta andando in onda la prima chain reaction cittadina, ovvero il primo grande domino meccanico, un'attività butuata dall'exploratorio in San Francisco, ovvero un'attività tinkering, chiamata così, una sorta di laboratorio ingegneristico dove si sviluppano le attività degli innovatori del ventunesimo secolo, creatività, problem solving e capacità di collaborare. Sì, qua ci sono 60 persone circa che abbiamo raccolto, abbiamo chiamato e hanno risposto positivamente e stanno lavorando insieme, hanno appena iniziato a lavorare insieme per cercare di dar vita a questa reazione a catena, i materiali sono tantissimi, sono molto particolari, alcuni molto comuni, altri un po' meno conosciuti, ma la sfida è anche questa, ci sono i nostri animatori all'opera, appunto i nostri animatori del 10 Lab, insomma vediamo tra un'ora e mezza questa reazione a catena che cosa ci farà vedere. Sicuramente si divertiranno tanto e si scopriranno più creativi rispetto a 90 minuti prima. Esatto. Allora stiamo cercando di costruire una rampa, almeno noi stiamo cercando di costruire una rampa qua dietro che dovrebbe collegarsi a un domino in salita che sarà costruito dalle ragazze prima di noi, tutto dovrebbe collegarsi a un'altra discesina che fa passare la pallina nello step successivo, più o meno. Grazie a tutti.